buongiorno ragazzi oggi vedremo come affrontare e riconoscere i problemi di massimo e minimo questo argomento viene subito dopo la spiegazione delle derivate perché come vedrete serve l'uso delle derivate per determinare come massimizzare e minimizzare una funzione vediamo subito qualche esempio quindi vedrete come si riesce a riconoscere che l'esercizio è un esercizio di massimo e minimo direttamente dal testo dell'esercizio stesso quindi scriviamo un primo esercizio e leggiamolo insieme trovare tra i triangoli rettangoli di data ipotenusa quello di area massima quindi come vedete nel testo esercizio c'è scritto che bisogna massimizzare qualcosa e c'è scritto anche che cosa bisogna rendere massima in questo caso è l'area vediamo un altro esercizio tra tutti i rettangoli a 20 stesso perimetro 2p qual è quello di superficie minima questo è un problema dove bisogna minimizzare che cosa la superficie quindi questo è il testo tipico di un problema di massimo di minimo è per quello che si riconosce quindi c'è scritto che cosa bisogna massimizzare o eventualmente minimizzare per risolvere questo tipo di esercizi vi scrivo qua i passaggi prima cosa da fare è scegliere un'incognita quindi l'incognita una x che può essere messa a secondo dell'esercizio su un lato su un angolo su una coordinata di un punto se siamo in geometria analitica dobbiamo scegliere un'incognita dopodiché dobbiamo scrivere la funzione da massimizzare o minimizzare ovviamente rispetto all'incognita che abbiamo scelto nel primo esempio che abbiamo scritto ovviamente dovremo riuscire a scrivere la funzione area rispetto a x nel secondo esercizio che abbiamo scritto dovremo scrivere la superficie rispetto a x quindi scrivo queste funzioni che dovrò poi massimizzare o minimizzare utilizzando l'incognita che abbiamo appena fissato e i dati che vengono forniti dal problema per esempio nel primo caso quando ci viene detto di data ipotenusa significa che all'ipotenusa possiamo dare un valore k un valore a e nel secondo esempio il dato che viene fornito dal problema è il perimetro e dovremo utilizzare per il perimetro la lunghezza grandezza 2p terzo passaggio dobbiamo derivare la funzione o area o superficie per i nostri esempi in generale dovremo derivare la funzione che poi voglio massimizzare quindi farò la derivata ovviamente rispetto a x della funzione di cui dobbiamo trovare il massimo e il minimo e dopo di che studierò il segno di questa funzione che ho derivato e troverò quindi la x per la quale la funzione che ho scritto è massima o minima e questo sarà già il risultato quindi del nostro esercizio vediamo nel dettaglio dei nostri due esempi se io ho la mia area derivata verrà uno schemino di questo tipo e io troverò che in x uguale a x con 0 la nostra area è massima nel caso della nostra derivata della superficie avrò questo tipo di schemino e quindi vedrò che il punto che minimizza la nostra superficie sarà x uguale a x 1 prendiamo il primo esercizio che abbiamo scritto e proviamo a svolgerlo e lo svolgeremo in due modi sia mettendolo in cognita su un angolo che mettendolo l'incognita su un lato iniziamo scegliendo come incognita un lato x e questo è il primo modo quindi facciamo la nostra figura è un triangolo rettangolo segniamo i dati che abbiamo quindi noi sappiamo che è un triangolo rettangolo sappiamo l'ipotenusa abbiamo scelto di chiamarla a diamo un nome ai vertici a b e c e scegliamo l'incognita tra questi due cateti per esempio decidiamo che ac è x a questo punto io devo trovare l'area quindi devo riuscire a scrivere l'area in funzione di x ma posso col teorema di pitagora trovare la lunghezza di bc che è a quadro meno x quadro ricordiamoci che a è un lato che conosciamo di cui non ci interessa la lunghezza abbiamo quindi scelto l'incognita che era il primo passaggio come secondo passaggio scriviamo la funzione area quindi l'area del nostro triangolo rettangolo è data da un mezzo per ac per bc quindi viene un mezzo x che moltiplica la radice di a quadro meno x quadro ecco la nostra funzione area come terzo passaggio adesso dobbiamo derivarla studiarne il segno e trovare quindi qual è la lunghezza del cateto che la rende massima facciamo la derivata è un prodotto quindi viene un mezzo che moltiplica mettiamolo tra parentesi quadra un passaggio alla volta derivo x e riscrivo la mia radice più riscrivo x e derivo la radice è una funzione composta quindi 1 fratto 2 per la radice e poi derivo l'argomento della radice quindi meno 2 x facciamo il denominatore comune abbiamo semplificato per 2 quindi la nostra funzione cosa diventa a denominatore mi rimane la mia radice facendo il denominatore comune la radice la elevo al quadrato quindi la tolgo mi rimane l'argomento quindi rimane a al quadrato meno 2 x quadro questa è la nostra funzione a primo la derivata quindi della funzione area adesso importante limitazioni geometriche nel nostro caso il nostro cateto che cosa deve fare deve essere un cateto quindi deve essere minore della nostra ipotenusa adesso andiamo a risolvere e a calcolare il segno della derivata prima ovviamente studio solo il numeratore la radice con la condizione che abbiamo messo prima di limitazione geometrica è sempre positiva questa disequazione mi dà come valori che x deve essere compreso tra meno radice di 2 fratto 2a e radice di 2 fratto 2a ovviamente x è una lunghezza non sto neanche a inserirlo perché non ci interessa visto il risultato che stiamo ottenendo ma qui dovremmo inserire lo 0 e considerare solo le lunghezze positive perché un segmento non è ovviamente negativo facendo lo schemino e mettendo le nostre freccine ottengo che il valore massimo per la nostra derivata è x uguale alla radice di 2 fratto 2a quindi se l'ipotenusa è a e un cateto è radice di 2a capiamo subito che abbiamo a che fare con un triangolo con angoli di 45 gradi e quindi la soluzione è data da un triangolo isoscele è quello il triangolo che ha l'area massima vediamo ora di risolvere lo stesso esercizio di prima mettendo però l'incognita x in un angolo la mettiamo per esempio in questo vertice qua segniamo l'ipotenusa segniamo i nomi dei vertici a b e c e ricaviamo con le regole dei triangoli rettangoli della trigonometria le lunghezze dei lati a b sarà a per il coseno di x mentre il lato b c sarà a per il seno di x riscriviamo qui che abbiamo scelto come incognita l'angolo b a c secondo passaggio scriviamo la funzione area quindi è un mezzo per il cateto a b per il cateto b c e quindi mi rimane un mezzo a quadro per sen x cos x ed ecco la nostra funzione ha un'espressione completamente diversa da quella dell'esercizio precedente ma porterà la stessa soluzione facciamo la derivata anche qui abbiamo un prodotto quindi deriviamo il seno fa coseno per coseno viene cos quadro più riscriviamo il seno e deriviamo il coseno che fa meno seno quindi mi rimane come funzione derivata un mezzo a quadro che moltiplica cos quadro di x meno sen quadro di x a questo punto se mi ricordo una formula quella di duplicazione posso sostituire la parentesi col coseno di 2 x e studiare adesso il segno della funzione derivata a primo di x maggiore uguale a 0 ottengo quindi coseno di 2 x maggiore uguale a 0 ma prima di svolgerla mettiamo le limitazioni geometriche essendo x un angolo interno un triangolo rettangolo ovviamente la sua ampiezza deve essere compresa tra 0 gradi e 90 gradi senza l'uguale quindi che cosa ottengo dalla disequazione ottengo che 2 x deve essere compreso tra 0 gradi e 90 gradi dividiamo tutto per due ottengo finalmente che l'angolo x deve essere compreso tra 0 e 45 gradi facciamo il nostro schemino e mettiamo le freccine ottengo quindi che è positivo tra 0 e 45 gradi la derivata è negativa dopo quindi abbiamo un punto di massimo proprio in 45 gradi quindi la x che cerco l'angolo che cerco è 45 gradi o pi greco quarti quindi possiamo arrivare alla conclusione che il triangolo cercato è il triangolo isoscele con questo oggi abbiamo finito abbiamo visto quindi come affrontare i problemi di massimo e minimo e quattro passaggi scegliere l'incognita scrivere la funzione da massimizzare fare la derivata studiarne il segno e trovare o il massimo o il minimo nei prossimi due video tratteremo ancora problemi di massimo e minimo nel campo della geometria solida o nel campo della geometria analitica continuate a seguirmi scrivetemi qualsiasi dubbio nei commenti mettetemi un like iscrivetevi al canale che arriveranno nuovi video sugli studi di funzione buona giornata e buona matematica